L'Unione Europea ha annunciato un pacchetto di aiuti da 8 miliardi di dollari per l'Egitto. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha tenuto un incontro bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi. La riunione ha preceduto la firma di un nuovo accordo sulle relazioni Unione-Egitto, comprendente le risorse finanziarie per il Cairo. Oltre all'accordo di partenariato in agenda, il conflitto a Gaza e la crisi dei rifugiati nella regione. Anche la premier italiana Giorgia Meloni ha incontrato Al-Sisi per la firma di un memorandum simile a quello siglato con la Tunisia. Obiettivo? Limitare flussi migratori. Grazie a tutti.